Bentornati a Casa Rossini, siamo qua ancora con un ospite. Una delle cose belle di fare questa trasmissione e di condurre questa trasmissione è proprio la possibilità di avere ogni tanto anche qualcuno che si conosce da tanti, tanti, tanti anni e che torna invece a trovarci in studio per un'attività che in qualche modo motiva la sua presenza. Allora, siamo qua con Andrea Fazzi. Ciao Andrea. Ciao Paolo. Allora, il tuo è d'obbligo con tanti ospiti ma con una persona come Andrea che conosco da 50 anni probabilmente siamo da quelle parti, sarebbe strano il contrario. Abbiamo fatto le medie e le superiori. Esatto, sarebbe molto strano il contrario. Siamo qua con Andrea Fazzi che ogni tanto con qualcuno parlando, veniva a scuola con me, ah sì, l'uomo degli alberi. molti ti conoscono come l'uomo degli alberi. E non so se si noti, sto cercando di somigliare a un albero. Sì, come ero prima, ero smilzo, non mi piaceva, adesso cerco di diventare un bell'albero secolare. Un albero di quelli, esatto. Ci sono due cose che ancora non sono riuscito a fare, la fotosintesi e le radici. Per il resto... Diciamo, sulla fotosintesi non mi esprimo, sulle radici invece ti dico un secco no, evita. Cioè, continuo a muoverti perché insomma mi sembra... Però io pensavo a vedere la fotosintesi è bella, perché metti io adesso e te andiamo fuori, diciamo, facciamo uno spuntino, ci mettiamo al sole così... Ah, che bella mangiata! Diventiamo un po' verdi, però dopo per il resto... Però un grande risparmio, eh? Benissimo. Allora, senti, perché ti abbiamo chiamato? Ti abbiamo chiamato per parlare appunto di alberi. Io ieri quando ti ho telefonato per dire di cosa parliamo, come ci organizziamo, sono rimasto molto colpito da quello che mi hai detto, che mi hai detto come risposta. E tu guarda, adesso c'è un attimo da fare, sono venuto a prendere dei semi, come che mi hai detto, dei semi interessanti di alberi che rischiano di sparire. Guarda, me lo sono segnato e virgolettato per due motivi. Prima di tutto perché poi mi dirai quali sono questi alberi interessanti. Ma soprattutto perché mi ha fatto fare una riflessione che non lo so se solo io ho pensato questa cosa o se viene in mente a tutti. Ma io non ci penso tutti i giorni che anche un albero, fa ridere, adesso dico la cosa che ti metti a ridere, nasce da un seme. Perché lo so che fa ridere a chi come te è abituato. Ma sai, l'idea che anche l'albero è quello che ci ripara, che ci protegge dal sole, che ci fa ombra, da cui cadono centinaia, migliaia di foglie, non so quante sono, ha cominciato con un seme. Perché noi ormai siamo abituati, bene che vada, a impiantare un albero che già in qualche modo è cresciutello. È vero, alcuni alberi tra i più grossi del mondo nascono da semi piccolissimi. La sequoia, che tutti hanno visto nelle foto, diventa immensa, nasce da un seme tutto sommato molto piccolo, non più grosso di così. Quindi tutti noi nasciamo da un seme, poi diventa qualcuno più grosso, qualcuno meno grosso, però gli alberi in modo particolare diventano veramente grossi, e tutto nasce da un seme. Quello che dovrebbe farci pensare di più è che dove è caduto un seme, l'albero è costretto a vivere qualunque cosa accada e qualunque sia il posto dove è nato, non può fare come noi, che se non ci piace più il posto ce ne possiamo andare. L'albero dove è caduto il suo seme deve fare tutta la sua esistenza e non può andare via da lì. A meno che non arriva l'uomo che prende lo sposta da un'altra parte se è un uomo buono. Invece non è un uomo buono, lo taglia e ha risolto il problema dell'uomo ma non quello dell'albero, decisamente. Il tuo mestiere è guida ambientalista? Io faccio l'educatore ambientale con le scuole da un'eternità e sono guida ambientale escursionista, che è una delle professioni del turismo. Infatti vediamo un po' di foto. Io porto la gente, in questo caso qui stavo facendo formazione, queste sono le fatine del Bosco dei Folletti a Urbania, sono quelle che poi accolgono i bambini vestiti da fatine. Io stavo spiegando un po' di cose perché loro poi lo spiegassero ai bambini. È un mestiere molto bello perché da una parte hai l'umanità, i tuoi simili, le persone, in cui puoi suscitare dell'entusiasmo. Dall'altra c'è il mondo naturale che è il mio alleato più antico, più profondo nella sopravvivenza. Quindi direi che è un mestiere forse uno dei più belli. Quando ci sono queste attività mi viene da dire che è chiaro che c'è una sorta di preselezione, nel senso che tu ti rivolgi a persone già in qualche modo mentalizzate, che si rivolgono a sua volta a te con una certa mentalità. Il resto del mondo com'è invece? Quando è nata l'educazione ambientale è nata perché cercava di colmare questa distanza culturale tra l'uomo e la natura e l'ambiente. Erano gli anni in cui c'erano le grandi questioni ambientali, l'inquinamento, si cominciava a parlare di inquinamento, di effetto serra. Quindi c'era una grande esigenza di creare un ponte e non posso dire che questo ponte abbia funzionato moltissimo perché la sensibilità mediamente non è che sia aumentata molto, nonostante le migliaia di ore che io e i miei colleghi mi hanno speso nell'educazione ambientale. Quindi oppure trovi, come dicevi tu prima, già persone preselezionate, cioè che ti viene a fare una passeggiata, andiamo a vedere gli alberi e ti vengono le persone che già gli alberi ce li hanno un po' nel cuore. Il vero traguardo sarebbe quello di catturare quelli che non amano gli alberi. Quello sarebbe. E certo, immagino che siano anche parecchi insomma. Sono anche parecchi. Più che altro quelli che li ignorano, no? Perché adesso che uno ce l'abbia con un albero, non credo, adesso alla fine è proprio forse più facile trovare qualcuno che trascura l'ambiente dal punto di vista della plastica nel mare, quelle cose lì. Uno che proprio si mette lì a tagliare una pianta adesso, non lo so. No, guarda, devo dirti che ci sono anche quelli. A Pesaro, noi usiamo un termine, noi naturalisti e ambientalisti, a Pesaro si ama molto il tut pulit. Cioè quindi il prato rasato, l'oglietto inglese, non deve scappare fuori un fioralino selvatico, l'albero se non è potato fino a 25 metri non è bello. Quindi in realtà c'è una forma di astio non dichiarato, una guerra non dichiarata col mondo dei viventi. Ed è strano perché da noi si preferisce quasi quasi un fosso pieno di mondezza alla Pesarese, quindi cartacce, lattine, piuttosto che un fosso colmo di erbe che in più nascondono la mondezza. Allora lì si passa con la falciatrice, poi le mondezze non si raccolgono. E quindi viene da pensare, ora preferiamo la plastica all'erba. E l'erba, anche se è piccina, anche lei cattura la CO2, ne cattura di meno di un albero, ma lo fa, gratis. Invece la plastica ti avvelina gratis. Adesso mentre parliamo stanno scorrendo le immagini di questi alberi bellissimi che ci hai mandato e che la regia sta facendo scorrere, poi magari ci ritorniamo anche. Quello che si pensa poco è che l'albero non è solo un elemento estetico e come tale va in qualche modo plasmato per soddisfare il nostro gusto estetico. L'albero è un attivatore di un sacco di cose importanti, proprio anche se volessimo limitarci solo alla nostra vita personale, anche per la nostra vita, no? Il discorso dell'aria, il discorso del frenare i flussi d'acqua per le frane. Insomma, io che non capisco niente, non so niente, però distinto capisco che un albero non è che sta lì solo per soddisfare il mio gusto estetico o magari per piacermi o non piacermi, ma per un sacco di altri motivi. Adesso ci sono anche degli studi che rendono economico, cioè quantificano i servizi sistemici di un albero. Cioè quant'acqua trattengono nel momento della pioggia, quant'acqua veicolano dal terreno all'atmosfera nei momenti in cui è caldo, quindi rinfrescando l'atmosfera, per cui hanno un effetto climatizzante. Sottraggono il CO2 che producono ossigeno, lo sanno tutti, ma ce lo scordiamo. Producono paesaggio, perché potete pensare, non so, Roma senza i pini domestici, o la Toscana senza i cipressi, o le Marche senza quei filari di quercia secolari. Quindi è il paesaggio in cui noi nasciamo, che ci è familiare, che ci racconta qualcosa di noi. In più fermano il particolato atmosferico. Quando le polveri sottili passano, le foglie un po' lo fermano. Quindi assorbono il rumore. Mi invito tutti a passare quest'estate, ad agosto, una notte di agosto, attorno al Miralfiore, e tra il Miralfiore e fuori ci sono 15 gradi di differenza. Incredibile. È una cosa incredibile. Condizionatore naturale. Gratis. Lo fa gratis. Esatto. Al di là poi, dopo che per chi la sa cogliere, c'è una bellezza infinita in un albero. Un albero è un essere che riporta in tutte le sue caratteristiche, tutta la sua esistenza, anche noi in parte, anche se noi non vogliamo nasconderla. Le rughe le vorremmo appianare tutte, ti singiamo i capelli, tu no. Io no, decisamente no. Uno è quello che è, diceva, io sono anche fiero delle mie rughe di espressione, ho pianto, ho riso, ho grottato la fronte perché l'ho preoccupato. Tutto quello che è il mio viso è il racconto di me stesso. L'albero è esemplare in questo. L'albero ti dice, qui un ramo è caduto, qui ho avuto una ferita, questi dieci anni ho sofferto la siccità. E lì c'è raccontata tutta la sua storia. Quindi è una poesia che vive. E poi un testimone, adesso non ce lo può raccontare, ma un albero è un testimone di tutto quello che gli è successo intorno. Per cui, senza andare a quelle razze, a quelle specie millenarie, cose del genere, un albero normalmente, comunque qualche centinaio d'anni, mi sa che se nessuno lo taglia, e allora qualche centinaio d'anni vuol dire che ci sono alberi davanti ai quali noi passiamo normalmente, magari anche al parco Mirafiore, che erano lì quando c'era Napoleone, voglio dire, no? Ah sì. Stiamo parlando di queste cose qui. L'età degli alberi è qualcosa di stupefacente. Per andare al BPA, insomma, al vitifrigo, c'è un platano che è ancora in fissi chiodi, perché era un albero vedetta dove c'era una sentinella durante la Seconda Guerra Mondiale, poi una bomba l'ha capitozzato, è enorme, e quello era già enorme nel 1945, quindi aveva già sicuramente un 200 anni quella volta. le nostre querce possono arrivare a 450 anni, se andiamo non lontano da qui, a Villa Verrucchio, c'è il cipresso che si dice abbia piantato San Francesco, che è una cosa che se ci pensi... Ah sì, veramente. E lui potrebbe anche fermarsi e dire, sai che ho visto il tuo bisnonno, il tuo trisavolo, passare di qui, e potrebbero raccontarci delle cose meravigliose. Certo, una volta mi hai detto una cosa che mi ha fatto riflettere, che mi è rimasto impresso un sacco di tempo, proprio, ancora oggi me lo ricordo, proprio legata all'albero, alla sua estetica e tutto quanto, hai detto l'albero di suo non ha bisogno di essere potato, molti sono convinti invece, oppure fanno passare questo messaggio, che l'albero per stare in salute ha bisogno che ogni tanto uno gli dia una bella tagliata, eccetera, eccetera, e semmai quelli più illuminati fanno un ragionamento legato alla stagione, dicendo che c'è il momento giusto, il momento sbagliato, eccetera, eccetera. E tu invece mi hai detto, non è vero, l'albero di suo non ha bisogno di essere potato. Confermi? Assolutamente. Ti do un dato, guarda, proprio scientifico e storico. Gli alberi sono esseri molto antichi, le piante sono uscite dal mare 430 milioni di anni fa. Noi non eravamo neanche nei progetti delle creature terrestri. Ovviamente gli alberi non sono tutti così antichi, ma le specie antiche hanno come minimo qualche decina di milioni di anni di esistenza. L'uomo è comparso 200 mila anni fa, per un bel po' di tempo non ha fatto il potatore, l'agricoltore, ma si è limitato a raccogliere la legna, a tagliarla se serviva. Quando poi abbiamo fatto questa grande rivoluzione dell'agricoltura, abbiamo cominciato a domesticare gli alberi e a doverli potare per farli produrre come vogliamo noi. Ma l'albero saprebbe produrre da solo per motivi suoi e non per i miei. Quindi gli alberi non hanno bisogno di noi. Se spariamo tutti quanti, noi, dalla faccia della terra, oggi pomeriggio, domani mattina degli alberi, fanno... Finalmente! Mamma mia, non se ne poteva più! Quelle formiglie rompiscate! In realtà sono così generosi che ci tollerano, ci sopportano, ci accolgono, ci aiutano e ci lasciano anche fare molti danni, perché hanno una capacità di resistenza e di resilienza impressionante, se no non le potremmo trattare in questo modo. Certo, certo. A Casa Rossini sono venuti ospiti parecchi sindaci di tutta la provincia e ogni volta io mi faccio mandare, come abbiamo fatto con te, delle foto e soprattutto per quanto riguarda i borghi, quelli che conservano ancora le mura, qualche bella foto, adesso sai che con i droni si fanno delle foto sensazionali, rivela comunque una natura ancora importante, cioè nei paesi dell'entroterra, al di fuori delle mura ci sono distese enormi di vegetazione, di alberi, di foreste e tutto quanto. Non stiamo così male, dai, non è così tragica la situazione. No, l'Italia è un paese di cui i boschi stanno riprendendo, perché vabbè, la legna non è più così strategica. Molti terreni li abbiamo abbandonati, certi terreni marginali sono stati abbandonati dall'agricoltura. Quindi i nostri boschi stanno recuperando, ma l'Italia, si è sempre detto, è un paese ricco di boschi poveri. No, se sono boschi poveri non sono a maturità, perché un bosco a maturità probabilmente nessuno l'ha mai visto. Quando le piante arrivano all'età finale in cui cominciano a morire, un albero comincia a morire adesso e per cent'anni continua a morire lentamente. E quindi non è morto, ma si avvia. E' un bosco così, non l'abbiamo visto, nemmeno Sassofratino, che è una foresta primigenia originale. Questo è un albero famoso, questo è quello di Monte Castellaro. E' il pino coricato, bellissimo, è uno degli alberi più fotografati d'Italia. Vanno a farci servizi fotografici perché è un pino che si è piano piano lentamente coricato per terra. Le radici non si sono strappate, ma siccome è venuto piano piano, si è appoggiato con i rami ed è come se stesse così. Come se stesse appoggiato, in riflessione. Immaginatevi quell'angolino lì, adesso la foto non rende, ma immaginatevi quell'angolino lì come suggestivo per le foto. Io ho conosciuto dei fotografi professionisti, hanno stage, e mi hanno detto che questo è uno dei posti dove vengono a fare con i modelli. E' un albero che ha detto, vabbè, anche così io esisto lo stesso. E sai cosa c'è? Io continuo, anche se dovrei morire perché sono abbattuto, in realtà sono vivo. Guardate, questa è una cosa incredibile. Un seme è caduto su una roccia, è riuscito a far arrivare una radice fino a per terra, e poi da lì è continuata a crescere. Quindi quest'albero ha avvolto il sasso, ci è cresciuto attorno. E' una cosa che se prendiamo come insegnamento per noi, non buttare giù gli ostacoli, crescici attorno. Potremmo anche, avvolgiamo. Facciamoli diventare una base. Facciamoli diventare parte di noi. Esatto, parte di noi è una base. Sono fotografie bellissime. Quante, adesso faccio una domanda veramente stupida, ma non lo so, quante specie di alberi esistono? Sì, sì, le specie, quelle censite, sono molte più di quelle degli animali. Ma non ne abbiamo censite tutte, perché ancora, supponiamo che ci siano molte cose da scoprire ancora in alcuni ambienti. Forse gli alberi li conosciamo quasi tutti. Le specie erbacee, quelle minori, quelle più piccole, minori nel senso di più piccole e meno vistose, penso che ci siano ancora diversi migliaia da scoprire. Tu naturalmente guardando, con tutta l'esperienza che hai, guardando in panoramica una foresta, un bosco, quello che è, ne riconosci parecchie. Una delle cose più belle, quando impari a riconoscere un albero da lontano dalla sua forma, dalla sua chioma, dallo spazio che occupa, è un po' come riconoscere un nemico in piazza anche da lontano perché cammina in quel modo. Oppure entri in una stanza e dici, ah, senti questa risata, è lui, è quella mia amica lì. È una cosa di una familiarità bellissima, ti dà un calore perché hai imparato a cogliere qualcosa, che è sempre stato lì, ma aspettava solo a te fare il passo per arrivare a conoscerlo. Ed è una grande soddisfazione, sì, è bello. Arrivare in un posto e dire, oh, lassù, su quel crinale, sono tutti pini d'Aleppo. Perché pini d'Aleppo e non pini domestici? Perché sono fatti così, hanno un'altra forma. Esatto, esatto. E poi ci sono tante storie intorno agli alberi. Parlando del nostro amico Giorgio Palazzi che vive ad Almatà, tu mi hai detto che Almatà in Kazakistan ha una storia. Poi tra l'altro su questa salutiamo i nostri telespettatori perché abbiamo già esaurito il nostro tempo. Sperando di poterla raccontare un giorno, la traduzione di quella parola vuol dire padre dei meli. Sopra la città c'era una grande collina con un bosco secolare dove vivevano anche alberi di 300 e passa anni, tutta di meli. Ci sono delle foto, adesso non le ho portate oggi. Meli tutti diversi, da mele piccole così, asprissime, a mele grosse così, farinose, rosse, gialle, verdi, viola, nere. Era la patria della biodiversità dei meli, quindi in quel posto lì c'era l'esplosione della capacità del melo di produrre varianti sul tema. Mela, però mela piccola, farinosa, dolce, croccante, tutti voi avrete, penso, dei gusti particolari. Mi piace la mela rosa. La Pink Lady è buonissima. Tra l'altro sai che la Pink Lady è sotto prevetto ancora, quindi per poterla coltivare bisogna avere il permesso. Perché parli al passato? Io lo so già, ma diciamolo anche ai telespettatori, perché parli al passato? Questa foresta non c'è più perché è stata urbanizzata. La città si è espansa moltissimo, è cresciuta moltissimo, si è arrampicata sulle colline come d'altra parte Pesero. Alle rive una volta non abitava nessuno, adesso ci sono dei quartieri meravigliosi. E i meli hanno dovuto cedere all'imvadenza umana. Questi meli sono stati salvati da un signore che aveva fatto una sorta di campo catalogo. Poi gli hanno dato fuoco i primi anni del 2000 e non c'è più neanche quella coltivazione speciale. Però ci sono in giro per il mondo delle persone che sono i custodi di queste mele, che hanno avuto da una fondazione americana una pianta e la custodiscono in nome della biodiversità mondiale. Un giorno potrebbe venire buono che quella pianta che hai preso te, con quel sapore lì, e io so che ce l'hai te e quindi io la prendo, la incrocio con un'altra e faccio un'altra Pink Lady, cioè un'altra mela di grande successo economico. Per cui c'è una grande anche economia lì dentro. Una grande economia, una grande varietà e soprattutto tante bellissime storie che abbiamo ascoltato oggi con Andrea Fatti. Andrea, guarda, come sempre, io dico sempre, sta cosa ormai la gente mi prenderà in giro a casa, perché io dico sempre che quando si parla di cose belle il tempo vola. Vola veramente tanto e io mi ci ritrovo tutti i giorni a dire purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo, ma siamo convinti di aver raccontato ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici qualcosa di interessante e piacevole. Se qualcun altro vuole seguirti, come deve fare? Io faccio molte escursioni. Al Miralfiore, per esempio, tutte le terze domeniche c'è la passeggiata aperta a tutti, gratuita. Poi ricominceremo una cosa che abbiamo dovuto interrompere per il Covid, l'arbo trekking urbano, cioè noi andiamo in giro per la città a riconoscere gli alberi, scegliamo quelli più belli, significativi, con una storia, e facciamo queste camminate molto semplici, perché io come guida sono una guida molto rassicurante. Quando una persona vede me dice no, con questo non si cammina molto. Quindi sono la classica guida che dicono ecco, con lui non fatichiamo niente. L'arbo trekking non è faticoso, anzi è molto bello, si va piano piano e si vanno a conoscere gli alberi della nostra città, del nostro Interland. Poi sì, facciamo conferenze. Sono due anni che siamo fermi per colpa di questa cosa, ma riprenderemo. Bene, bene, bene. Allora seguiamo con attenzione che cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e soprattutto impariamo ad aver voglia di riconoscere gli alberi che sono intorno a noi, alle volte non ce ne accorgiamo nemmeno. Andrea, grazie. Grazie a te. Grazie a tutti, soprattutto per averci ascoltato e seguito. L'appuntamento è una delle prossime puntate in diretta di Casa Rossini. Restate sempre con i programmi di Rossini TV. Buona giornata e buona visione a tutti. Grazie. Grazie Andrea. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.